Luca De Biase Luca De Biase non va preso per niente alla leggera. Il tema non solo è che in Italia abbiamo pochissimi studenti universitari rispetto a quello che per esempio succede in Germania, dove ammettono una gran quantità di fuoricorso, riducono il numero chiuso dell'università e in questo modo riducono drasticamente la disoccupazione giovanile. Noi abbiamo il 40% di statistico di disoccupazione giovanile, anche perché abbiamo sempre meno studenti all'università, a quanto pare. Ma questo è uno solo degli argomenti che rendono le famiglie preoccupate di quello che hanno davanti i loro figli. La difficoltà di concepire come sarà fatto il lavoro del futuro, come ci si deve preparare, è drastica, drammatica, è il problema numero uno degli italiani e delle famiglie italiane che hanno da pensare alle giovani. Un dato ulteriore, finisco subito, per l'Ocse il 55% dei nuovi posti di lavoro viene da aziende che hanno meno di 5 anni. Significa che quando uno si iscrivesse, e speriamo che lo faccia, all'università, quel giorno l'azienda per la quale andrà a lavorare alla fine dell'università probabilmente non è ancora nata. Difficile immaginarsi come è fatto il lavoro del futuro in queste condizioni e infatti è un grandissimo problema a cui si aggiunge ultimamente un dibattito sull'automazione sempre più spinta per la quale, come dicevamo l'altra volta, inutile ricordarcelo, c'è una quantità di ricerche che parlano di una forte sostituzione di posti di lavoro umani con posti occupati da intelligenze artificiali, robot e quant'altro. Ce n'è stato uno studio di Oxford molto dibattuto e molto controverso che parlava del 47% dei posti di lavoro che sarebbero stati sostituiti da robot, per esempio auto e camion che si guidano da soli avrebbero preso il posto di tassisti, camionisti e quant'altro. L'Ocse ha corretto drasticamente questi dati dicendo che solo il 10% dei posti rischia di essere sostituito da robot, che comunque è tanto il 10%, mentre il 30% cambierà drasticamente, adattandosi a questa nuova condizione della produzione. Dall'altra parte noi abbiamo un paese che produce robot, che produce automazione industriale, è il secondo produttore di automazione industriale d'Europa, uno dei quattro più grandi del mondo, è un fortissimo esportatore, creiamo posti di lavoro per fare robot. E alla cima della piramide del sapere dei robot ci sono alcuni centri di ricerca straordinari che fanno i robot più belli del mondo, perlomeno a giudicare dal fatto che per esempio iCub è la piattaforma robotica più venduta nel mondo, generata dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. E abbiamo la fortuna e l'onore di avere Giorgio Metta qui con noi, che è uno dei colpevoli di questo fatto, che ci racconta a che punto è questa piattaforma, naturalmente con il taglio legato al senso del lavoro del futuro. Prego. Grazie, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui, anche se in serale dopo un po' di viaggio ce l'abbiamo fatta. Volevo iniziare con una frase che mi piace molto, ve la faccio vedere. E' un pezzo che ho scomodato Isa Casimov, scrittore di fantascienza, in un pezzo che mi piace molto perché ha un suo significato. Dice, c'è una conversazione tra due persone, che è una storia breve, la prima persona chiede quanti anni ha e la seconda risponde 32, e la prima a questo punto dice, ma non ti ricordi un mondo senza i robot. Questo, quando io l'ho letto, la prima volta ho pensato a mio figlio, che all'epoca aveva dieci anni, e non aveva mai conosciuto un mondo senza computer, senza internet, dove la musica per lui è un concetto astratto. Non esiste un supporto della musica, la musica vive da qualche parte, ma non è una cosa concreta. Quindi l'ho trovato interessante perché chissà che un giorno, appunto, non esisterà una generazione che possa effettivamente dire una cosa di questo tipo. Noi facciamo ricerca in robotica e in intelligenza artificiale, abbiamo cercato anche di capirne i motivi. Io ho iniziato a fare robotica per passione, non tanto perché avessi una motivazione di utilizzo futuro della robotica, mi ci sono trovato in mezzo quando ero molto più giovane. Poi però abbiamo cominciato a chiederci, ma il tipo di robotica che stiamo facendo, dove può servire? Lo facciamo solo perché abbiamo la curiosità del ricercatore oppure c'è qualcos'altro dietro? In realtà abbiamo uno scenario in mente, che è rappresentato, credo bene, da questa foto, che è sostanzialmente l'invecchiamento della popolazione. Questo è uno di quelli che si chiamano i megatrends, che vuol dire di fatto dei fenomeni che sono molto difficili da contrastare. Questo avviene a livello globale, in tutto il mondo, praticamente in tutto il mondo, a parte il continente africano. Ed è plausibile che per i prossimi 30-40 anni questa tendenza non cambi. Un altro modo per vedere questo è, guardando questi grafici, non c'è bisogno di leggere numeri o altre cose, semplicemente si vede che negli ultimi 50 anni il numero di figli di fatto è sceso ed è sceso sotto la soglia per la quale la popolazione rimane costante. Questa soglia ipotetica è 2,1 e vediamo che in Europa, in Cina, ma anche in paesi come l'India, questo numero è andato giù drasticamente. In India è ancora positivo, quindi la popolazione cresce. Sicuramente in Europa, Cina, Giappone, Stati Uniti, la popolazione è destinata a scendere. Questo vorrà dire che, siccome scende ma vuol dire che ci sono meno giovani, ma non è che la popolazione scende immediatamente, si arriva a un certo numero, questo vuol dire che per il 2030, che non è lontanissimo, ci saranno 845 milioni di persone oltre i 65 anni, quindi teoricamente persone che non lavorano. Una delle ipotesi a cui si dà credito è che, appunto, la robotica per l'uso personale possa essere una soluzione a questo grande numero di persone che potrebbe aver bisogno di assistenza. Questa è una possibilità. Un'altra possibilità è che semplicemente avremo delle braccia in meno e quindi sarà necessaria più automazione nell'industria. Da qualche parte, di fatto, potrebbero mancare delle braccia. Bill Gates, che, se non credete a me, posso citare diverse persone. Una Bill Gates che ipotizzava, appunto, questa venuta della robotica personale. Un po' come è successo per il computer. Negli anni 80 si è passati dal computer per l'industria al computer personale, che in ultima analisi poi ci ha portato quei dispositivi che ora abbiamo sempre con noi, che fanno di fatto più calcoli di quanti ne faceva un computer per l'industria dell'epoca. E lui ipotizza questo passaggio anche per la robotica. Quindi la robotica usata normalmente per l'industria verso una robotica invece di uso più personale. Qualcosa è successo di recente, diciamo negli ultimi 5-6 anni, ed è stato un progredire di una serie di tecnologie che stanno dando risultati interessanti. Queste, di fatto, riassunte in questa slide, sono quelle che hanno a che vedere con l'intelligenza artificiale. Le ho raccolto dei loghi in questa slide perché questi sono tutti attori in questo campo nuovo dell'intelligenza artificiale. Questi sono tutti i grandi americani, Google, Facebook, piuttosto che Amazon, che stanno investendo pesantamente in queste tecnologie. Poi ci sono un po' di università, ma c'è anche la NASA, c'è IBM, ci sono dei fornitori di tecnologia. Nvidia, ad esempio, è un costruttore di microprocessori che sta investendo pesantemente e crede che questa possa essere una strada di successo. Ci sono due ragioni per cui questo è successo. Di fatto, una è la disponibilità di dati. Quel grafico che vedete sulla destra è una rappresentazione di come è cambiata la disponibilità di dati in un particolare settore. Quindi il quadratino piccolo, diciamo a sinistra e in basso, è quello che io potevo avere qualche anno fa. Quello più grande è il numero o la quantità di dati, rappresentata ovviamente con un rettangolo, che ho in questo momento. Questo è un database sulla quale di solito noi ci confrontiamo per verificare le prestazioni dei nostri algoritmi. Adesso, ad esempio, questo database contiene 15 milioni di immagini. Questo, ovviamente, qualche anno fa, quando io l'ho iniziato a studiare, questo era neanche immaginabile. Negli ultimi dieci anni questo è cambiato drasticamente e adesso riusciamo a fare delle cose, quindi, che non riuscivamo a fare. L'altra ragione è che la capacità di calcolo è cresciuta. Quindi, algoritmi che, di nuovo, quando io mi sono laureato, studiavamo in teoria, ma poi non riuscivamo ad applicare, sono diventati immediatamente dei portatori di soluzioni a problemi, come ad esempio trovare se in un'immagine ci sono delle persone, riconoscere il viso, distinguere o capire cosa stanno facendo queste persone e così via. Quindi la capacità di analizzare questi dati visivi è diventata molto più, diciamo, i risultati che otteniamo sono molto più di qualità. La ricerca rimane difficile. Non è che abbiamo risolto tutti i problemi e questo giustifica anche il fatto che noi, come istituto di ricerca, investiamo in questo campo. Quindi non è che abbiamo risolto i problemi. Ora, abbiamo automobili che vanno quasi da sole, abbiamo automobili dove, non so, il sistema con telecamere ci dice e vede i segnali stradali, ce li indica. Ci sono tutta una serie di cose che cominciano a funzionare. In qualunque cellulare ormai vengono identificate le facce e quando scatta una foto viene messo un rettangolino intorno alla faccia. Queste cose qui, appunto, cominciano a diventare dei prodotti, però non siamo chiaramente in grado di realizzare un robot controllato da questa capacità di elaborazione. Noi qualcosa proviamo a fare, questa è un'immagine di uno dei nostri robot. Adesso vi faccio vedere un po' delle cose che stiamo facendo per cercare di presentare un po' qual è lo stato di questa tecnologia. Una cosa che è molto complicata da fare, ad esempio, lo vedete nel prossimo video, è questa capacità di mantenere gli oggetti in mano e di manipolarli. Questa è una capacità che è squisitamente umana e sfortunatamente, anche se qui sembra che le cose vadano, in realtà non riusciamo a farlo così bene ancora. Quindi il robot che ci sostituirà completamente nei lavori manuali al momento non esiste. Esistono delle soluzioni ad hoc, se io voglio prendere una bottiglia riesco a farlo, se voglio prendere qualunque oggetto è molto più complicato. Esistono cose di questo tipo dove io interagendo in maniera abbastanza semplice con un robot posso chiedergli di indicarmi un oggetto. Il robot in questo caso vede, usa le sue telecamere per vedere cosa sta succedendo e riconosce l'oggetto correttamente e lo indica. Questo, di nuovo, è un complito che sembra semplicissimo. Considerate che dietro magari c'è il lavoro di tre anni di uno studente che si è impegnato per realizzare questa specifica capacità. Un'altra cosa che riusciamo a fare, che sarà utile per i robot che dovranno interagire con noi, è dare al robot la capacità di sentire quando viene a contatto con l'ambiente. Immaginate di avere questa macchina con la quale dovete interagire, la toccate, non volete che questa macchina sia rigida o spinga contro di voi. Preferireste che fosse morbida e cedesse al potenziale contatto. E questa è una delle cose che viene mostrata in questo video. Qui addirittura il robot, utilizzando le telecamere, prevede il contatto e quindi si sposta ancora prima di essere arrivato in contatto. Immaginate quindi in un futuro questo robot si muove in un ambiente, ci sono persone, ci sono cose, non bisogna scontrarle, non bisogna toccarle, quindi questa capacità è importante. La stessa capacità, che quindi è quella di capire il contatto con l'ambiente, che lui effettua attraverso dei particolari sensori tattili, ci consente anche di fare cose di questo tipo, dove per esempio il robot rimane in equilibrio mentre fa un po' di esercizi di ginnastica. Questo non è esercizio fine a se stesso, queste sono le basi che gli consenteranno di muoversi in maniera sicura in un ambiente su due gambe. La stessa cosa la vedete in quest'altro video, dove il robot viene spinto e deve bilanciarsi, oppure piuttosto che in quest'altro, dove addirittura l'abbiamo messo in una situazione difficile, deve tenersi in equilibrio su un oggetto che è naturalmente instabile. Queste sono alcune delle capacità, per non dimenticarci poi che un giorno il robot dovrà essere anche in grado di comunicarci qualcosa in maniera molto implicita. Non deve necessariamente parlare. E questo è una cosa che stiamo studiando, utilizzando ad esempio delle tecniche di neuroscienza, per capire quando un gesto eseguito dal robot è effettivamente efficace. Quello che facciamo di fatto è, prendiamo dei nostri studenti o dei soggetti umani e con delle tecniche non invasive ovviamente, misuriamo qual è la loro risposta di fronte a un'azione fatta da robot, piuttosto che un'azione fatta da un altro essere umano. Quando le risposte del cervello sono simili, vuol dire che abbiamo ottenuto l'effetto desiderato, che è il robot che si comporta più o meno come si comporta un essere umano. E questo è importante perché i gesti che fa il robot devono essere esemplificativi, in maniera naturale, per consentirci in qualche modo di essere a nostro agio quando interagiamo con la macchina. Poi abbiamo fatto un altro lavoro. Sfortunatamente gli oggetti che vedete in questi video sono cose piuttosto costose. E quindi più di recente, un paio d'anni fa, abbiamo detto, ma riusciamo a fare qualcosa che costi meno? Effettivamente questa tecnologia è solo qualcosa per pochi o può diventare qualcosa per tutti? Può diventare un po' come la tv, quindi qualcosa che compro a poco e mi metto in casa? Abbiamo fatto un esercizio di design, se vogliamo, e ingegneria, però questa volta siamo partiti dal design. Essendo italiani abbiamo detto, pensiamo che un oggetto che un giorno mi dovrò mettere in casa debba essere anche, avere una sua eleganza, per cui abbiamo iniziato proprio facendo un lavoro con design industriali. L'oggetto non è venuto un vero umanoide, vedete che è un po' diverso, però ricorda l'essere umano. Alcune cose non le abbiamo potute fare perché costano troppo, oppure perché non sono sicure, ad esempio le gambe le abbiamo dovute togliere, perché non possiamo garantire che un robot su gambe sia sempre stabile, che non cada e faccia del male a qualcuno. Per cui il robot è un po' cambiato. Abbiamo anche cominciato a immaginarci quelli che potrebbero essere gli scenari, magari assistente in un centro commerciale, piuttosto che in un ospedale, per poi arrivare un giorno in casa. Probabilmente non ci arriveremo molto in fretta. Ma il robot sarà un po' il nuovo cellulare, con in più la capacità di usare le mani per fare delle cose. Quindi mi porterà qualcosa, potrà aprire una porta per me, potrà guardare e vedere cosa succede, e magari monitorare il mio stato di salute, dare l'allarme in automatico se mi succede qualcosa. Quindi su tutte possibilità. In questo video, in qualche modo, vedete una presentazione di questo robot. Appena l'abbiamo finito, questo ovviamente è ancora un prototipo, però già facendo questo lavoro di semplificazione e di ulteriore ingegneria, siamo riusciti a abbattere i costi rispetto all'umanoide completo di circa un fattore 10. Quindi c'è speranza che queste siano macchine che un giorno raggiungeranno un prezzo effettivamente accessibile. Qui il robot è, diciamo, il video è puramente pubblicitario, a nord di cronaca devo dire che è controllato a distanza da uno dei nostri ricercatori. Ma l'abbiamo fatto per dare un'idea di quello che può fare, del fatto che si può muovere, che ha certe caratteristiche, adesso nel proseguio del video vediamo un po' cosa succede. Credo che renda abbastanza l'idea di come sia stata fatta questa macchina. Questo è ipoteticamente l'arrivo del nuovo membro della famiglia di robot dell'istituto. Qui ad esempio si vede che la mano può effettivamente prendere un oggetto, pur essendo molto semplice, è in grado di prendere delle cose. Le cose possono essere un bicchiere, una bottiglia, una scatola di medicine, quello che ci interessa. Poi può spostarsi, ad esempio andare a prendere un ascensore, schiacciare i pulsanti in maniera opportuna. Quindi in un ambiente ragionevolmente complicato può fare tutte queste cose. Ovviamente a questo punto poi la sfida è mettere dentro l'intelligenza. A questo proposito volevo dire che purtroppo bisogna un po' capire, se vogliamo capire il futuro dovremo anche capire se queste tecnologie effettivamente saranno all'altezza delle aspettative. Molto spesso in passato è successo che la tecnologia progredisse, arrivasse a un certo punto e poi in realtà non riuscisse a fare quel salto di qualità necessario per andare e diventare effettivamente alla portata di tutti. O semplicemente perché tecnologicamente non era fattibile. L'altro argomento che ritengo interessante, di carattere più sociale se vogliamo, è anche una volta che avessimo sviluppato queste tecnologie, quale sarà effettivamente il beneficio per tutti? Sarà qualcosa che andrà a dare un beneficio a tutti o sarà solo per chi ha messo ad esempio il capitale inizialmente? La domanda di questo articolo è appunto chi sarà il proprietario di questi robot? Quindi saremmo effettivamente noi perché ce lo siamo comprati ognuno al suo? Sarà un mondo da pensare? Comunque esistono dei problemi? Vi vorrei lasciare con semplicemente effettivamente una domanda. Se, parafrasando Asimov, ci ricorderemo di un mondo senza i robot? Se questa tecnologia non sarà così utile e così migliorerà la qualità della nostra vita da permetterci di dimenticarci il mondo prima? Un po' come è successo con i cellulari. Io mi ricordo ancora prima di avere il cellulare quando per prendere un appuntamento dovevo stabilirlo un giorno prima e avere un orario preciso perché non c'era altro modo. Adesso è un po' diverso. Adesso c'è sempre la possibilità di cambiare al volo un appuntamento, di spostarsi in maniera diversa, di in qualche modo aggiustare le cose semplicemente perché posso comunicare più facilmente. Grazie. E questo è chiaramente un insieme di dilemmi, di possibilità, di opportunità. La scienza ci sta, come sempre, portando di fronte alle frontiere delle nostre possibilità umane che oltre a essere di frontiere sono anche a tempo limitato. Infatti Giorgio, quando dovrà, potrà naturalmente ripartire per casa, perché sappiamo che è stato qui, si è sacrificato per venire a parlarci. Insomma, quando sarà, andrà. E grazie a Giorgio per avercela comunque fatta. Non hai parlato delle leggi della robotica perché fondamentalmente una delle inquietudini che generano questi robot è l'idea che possano uscire di controllo. e quindi la citazione di Asimov chiaramente ci portava a pensare anche al fatto che sarebbe bello poterle dotare queste macchine di una loro etica per cui non possano fare male agli umani. ma indubbiamente hai dato una dimostrazione molto più avanzata di questo e cioè hai detto noi li disegniamo così e questo è ancora più forte, no? Come messaggio abbiamo visto dei robot simpatici con la faccia da bambino oppure molto servizievoli con questo aspetto da aiutante simpatico e quindi questo è il genere di lavoro che state facendo voi indubbiamente non sappiamo se tutta la produzione andrà in questa direzione sarà consapevole delle sue conseguenze per esempio l'auto che si guida da sola è destinata a portare grandi dilemmi nella nostra società sapete del fatto che ormai ha fatto milioni di chilometri la tecnologia con pochissimi incidenti uno mortale peraltro il risultato delle indagini ha portato a dire che Joshua Brown che è morto mentre non guidava la sua auto Tesla e si riprendeva e si metteva su YouTube mentre la Tesla si muoveva da sola e faceva le sue scelte fino all'ultimo giorno quando appunto con la Tesla è andato a sbattere contro un camion che la Tesla non ha visto le indagini hanno poi deciso che la colpa era di Joshua Brown perché la Tesla gli continuava a dire metti le mani sul volante sta di fatto che questo è una sfida per l'urbanistica è una sfida per i possessori di parcheggi è una sfida per i proprietari di automobili è una sfida per le compagnie di trasporti urbani è una sfida per le assicurazioni abbiamo Paola Carrea che è direttore generale Alpha Evolution Technology del gruppo Unipol che si pone questi problemi ogni giorno prego Buonasera a tutti dopo questa bellissima presentazione sui robot con la mia presentazione vi voglio provare a spiegare come un grande gruppo assicurativo che è appunto il grande gruppo Unipol che voi di Bologna conoscete sicuramente meglio di me io ci lavoro da solo un anno stia pesantemente investendo proprio per capire come cambierà il mondo dell'assicurazione nel momento in cui arriveranno tutti questi nuovi paradigmi di mobilità o sono già arrivati macchine che prendiamo in car sharing macchine che prendiamo in leasing macchine che non affittiamo e che prendiamo in prestito dall'amico in un ambito di un concetto di mobilità che si chiama peer to peer quindi sino ad arrivare poi alla macchina automatica di fatto il mondo dell'assicurazione vediamo se sono capace a mandare avanti di fatto il mondo dell'assicurazione ha già fatto tanta strada cioè prima di tutto ha investito internamente e qui parlo in generale un po' per il mondo assicurativo non solo per la nostra Unipol prima di tutto ha iniziato a investire internamente per migliorare i suoi processi aziendali e anche questo è un percorso non banale non è solo innovazione tecnologica cioè portare delle infrastrutture dell'ICT dentro l'azienda eliminare le carte virtualizzare tutto ma è anche un enorme servizio per i nostri clienti perché grazie a questi processi ottimizzati all'interno dell'azienda a seguito poi di claim di incidenti di richieste di pagamenti i tempi vengono effettivamente molto ottimizzati portando decisi benefici ovviamente per il cliente non ultimo anche decisi benefici per l'assicurazione stessa il percorso questo è stato interno ed è in progresso ovviamente dentro un'azienda assicurativa ci sono abbiamo sentito parlare prima di questi microprocessori o di questi computer molto performanti voi proprio qui a Bologna avete uno dei centri un big data center quindi un centro che raccoglie dati assicurativi che è uno dei più importanti e grandi a livello nazionale oltre che uno dei più sicuri e io sono andata a vedere per mia curiosità visto che mi occupo di telematica quindi di raccolta dati questo big data computer big data dove arrivano oggi ci sono circa 70 terabyte di dati solo dai clienti telematici 71 terabyte e 10 alla dodicesima quindi tantissimi dati e mi hanno fatto vedere una scatoletta poco più grande di una scatola da scarpe e poi mi hanno fatto vedere c'erano delle lucine più o meno a 2-3 centimetri di altezza e dicevano ecco lì stanno i tuoi terabyte di dati i tuoi intesi come quelli dei clienti assicurativi telematici quindi effettivamente le performances di questi sistemi sono enormi e gli investimenti che ci sono dietro sono altrettanto enormi questo è stato il primo passo fondamentale perché poi a questo passo l'assicurazione ha iniziato ad aggiungere che cosa? la possibilità di essere più vicino ai propri clienti offrendo delle soluzioni telematiche che non sono solo il telefono ma possono essere praticamente dei telefoni che tu metti sulla macchina quindi delle scatole telematiche sulle automobili che ti assistono soprattutto quando ne hai bisogno e quindi in caso di incidente in maniera molto anticipatoria anche rispetto a delle leggi che stanno arrivando a livello europeo Unipol ha iniziato a garantire ai suoi clienti che in caso di incidente potesse arrivare in automatico l'assistenza e quindi essere molto vicina e nello stesso tempo sapendo bene dalla telematica dove si trovava la macchina mandare se non era l'incidente grave semplicemente il carattrezzi se era più grave il cliente si capiva che ne aveva bisogno anche un'assistenza sanitaria e così via e questo è stato un primo passo verso l'avvicinarsi di più al cliente quindi non fare solo delle cose interne per il cliente e per se stessa ma anche per essere più vicino al cliente ovviamente a un certo punto ho detto ma perché io devo parlare di telematica solo sull'automobile no? oramai siamo nell'era dell'internet delle cose IoT un robot per eccellenza che dialoga con tutta la casa che accende il forno spegne il forno apre il 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 frigorifero chiude il frigorifero eccetera e perché è continuamente connesso a tutto no? allora anche uno poi dice ma nel momento in cui io metto la telematica sulle macchine e garantisco quindi ai miei clienti assistenza quando sono sulla macchina perché non pensare a una forma analoga di assistenza anche quando il cliente è in caso o anche quando il cliente è in una sua attività commerciale o ha bisogno perché sta girando in motocicletta o ha bisogno perché sta girando su una bicicletta e quindi abbiamo iniziato ad allargare l'applicazione della telematica non solo al mondo dell'automobile ma anche ad altri settori e per ultimo che non è ultimo ma è primo in ordine di importanza abbiamo anche capito che alla fine il nostro cliente è uno con la sua famiglia e quindi noi dobbiamo trattarlo come il cliente con la I maiuscola e con la C maiuscola e porlo al centro di tutto offrendogli quindi grazie alla digitalizzazione grazie alla telematica grazie a informativa grazie a servizi per eccellenza offrendogli quello di cui lui ha bisogno noi vogliamo un po' diventare gli ambrogio vi ricordate una volta c'era una pubblicità della signora che saliva in macchina e diceva un certo languorino e ambrogio gli dava il rocher ecco noi vogliamo diventare l'ambrogio dei nostri clienti quindi capire in anticipo quando il cliente ha bisogno di qualcosa ovviamente non del cioccolatino ma da un punto di vista di assistenza di servizio di presenza ed esserli vicino ora nell'ambito di questo percorso ci sono dei pillar grossi che stanno stravolgendo molto il nostro modello di business prima di tutto ci stiamo rendendo conto che non possiamo essere soli e che per essere veramente vicino al cliente dobbiamo spesso fare partnership con molti altri in più i cinque pillar importanti vanno dal concetto del plug and play quindi associare l'assicurazione come se fosse una spina a qualcos'altro stiamo firmando un accordo molto importante anzi abbiamo già firmato ed è per questo che lo posso dire con telepass proprio per vedere così come quando vai in autostrada per aprire il casello e bisogna del telepass poi vai in unipro per fare l'assicurazione prendi la scatola telematica assicurativa per avere servizi mettiamo assieme sia il pagamento da una parte sia l'assistenza e la sicurezza dall'altra parte oppure essere orchestratori proprio perché vogliamo tenere il nostro cliente al centro e quindi cercare di capire ogni volta quali sono i servizi di cui ha bisogno andando di volta in volta a prendere il meglio di quello che c'è sul mercato se il servizio di antifurto in Puglia lo fa bene un service provider devo fare partnership con quello lì e magari in Liguria con un altro e magari in Piemonte con un altro cioè prendere sempre il meglio per il mio cliente essere un educatore questo è molto importante da un punto di vista sociale cioè capire attraverso lo stile di guida dei nostri clienti quando effettivamente arrivano in un modo di guida hanno una maniera di guidare particolarmente rischiosa e allora incentivarli per evitare questo rischio che è ovviamente un beneficio anche per noi perché se sei meno rischioso non fai l'incidente ma è soprattutto un beneficio per il cliente ed è soprattutto un beneficio per la società e quindi ecco che stiamo mettendo in piedi dei modelli quali il try before you renew o il try before you buy quindi delle apps che danno la possibilità di monitorare appunto il modo in cui il cliente guida e automaticamente propogli una maniera migliore di guidare magari in funzione di che cosa magari in funzione del reale furuso di traffico magari in funzione delle condizioni meteo magari in funzione della pericolosità di quella strada lì piuttosto che in funzione del numero di buche che c'è in quella strada lì vi dico queste cose perché sono cose particolarmente nuove non vi sto parlando solo del traffico ma vi sto parlando di raccolta dati e di possibilità di capire la rischiosità delle strade o la presenza di buche eccetera che sono cose ancora abbastanza distintive ed uniche queste viste a un livello non solo nazionale ma anche globale andando su c'è questo concetto del peer to peer cioè noi ci dobbiamo preparare come assicurazione magari ad assicurare una community e non assicurare solo il singolo e la community si mette assieme e contribuisce magari a pagare una certa polizza piuttosto che un'altra anche questi sono modelli molto nuovi sino ad arrivare al concetto di virtualizzazione dell'assistenza dell'assistente scusatemi per il nostro per il nostro cliente quindi avere qualcuno sempre concetto di ambrogio che ti segue e ti suggerisce e ti aiuta continuamente ti ricorda quello che deve fare quello che devi fare ti indirizza verso un un migliore modo di comportarti cosa abbiamo fatto sino ad adesso sino ad adesso posso dire possiamo già iniziare a parlare anche un po' al passato non solo al futuro oggi Unipol è leader a livello mondo sull'applicazione delle telematiche assicurative per l'automobile abbiamo 3 milioni e mezzo di clienti quindi con una penetrazione del 33% dotati di scatola telematica quindi per i quali possiamo meglio offrire questa tipologia di servizi siamo partiti ad offrire prodotti ovviamente anche su casa anche su commercio a breve usciremo con un simpatico prodotto della linea personal per gli animali domestici stiamo curando poi tutta una linea personal per anziani e per bambini e quando dico linea personal per anziani intendo possibilità di capire per esempio attraverso la domotica se l'anziano che ha comunque determinate abitudini quella mattina lì visto che lui solitamente magari alle 7 del mattino passa dal soggiorno per andare in cucina o apre il frigo o fa delle azioni abbastanza ripetitive se io mi accordo che entro le 9 del mattino non ha ancora fatto nessuna di queste azioni posso chiamare attraverso il nostro centro servizi la figlia il figlio chi mi ha lasciato il numero di telefono di quest'anziano in modo da preallertarlo che c'è qualcosa che non va ammesso che lui non se ne sia già accorto autonomamente a ricordargli stiamo trovando delle soluzioni con unisalute addirittura di apparecchiature che contano e vedono se hai preso la pastiglia non hai preso la pastiglia se hai aperto non hai aperto quello scatolino eccetera quindi sensibilità per gli anziani ma anche per i bambini per sapere se effettivamente sono arrivati a scuola se sono usciti da scuola dove si trovano quando giocano nel parco quando sono in spiaggia e così via quindi l'estensione di questo concetto di sicurezza sull'automobile anche a tutta la famiglia o estesa veramente molto da un punto di vista sociale stiamo pensando poi alle bici al concetto di agricoltura e così via sono stata introdotta però soprattutto per il discorso dell'automobile perché ovviamente sta arrivando questa guida automatica e quindi noi che dobbiamo lavorare in partnership con tutti dobbiamo anche iniziare a capire come affrontare il tema della macchina che va da sola cioè nel momento in cui avremo le macchine che vanno da sola l'assicurazione cosa fa? Chi assicura? Assicura la macchina assicura il costruttore che l'ha fatta assicura il fornitore della tecnologia telematica piuttosto che della sensoristica che è stata messa attorno alla macchina e soprattutto nel caso di un incidente chi è responsabile? No? Abbiamo sentito dire Tesla il guidatore è andato contro il guidatore doveva prendere il volante non l'ha preso eccetera noi stiamo lavorando stiamo facendo un progetto molto interessante proprio con l'università di Bologna per iniziare a capire il carico di lavoro dei guidatori del driver scusatemi del pilota quando è seduto su una macchina che non è una macchina tradizionale ma è seduto su una macchina che per esempio ha qualche sistema di ausilio alla guida prima abbiamo sentito dire iniziano ad arrivare le macchine quasi automatiche magari le macchine che frenano da sole poi le macchine che ti tengono la corsia da sola poi la macchina che ti aiuta quando sorpassi e così via per capire se nel momento in cui il guidatore che non è un ingegnere ma è una persona normalissima e adotta questo sistema magari proprio in quel momento lì si sente anche più libero di distrarsi un minimo e visto che in letteratura non c'è non c'è la risposta a questa cosa qua se si distrae di più o si distrae di meno e quindi se dal nostro punto di vista c'è più o meno rischio di incidenti stiamo proprio cercando di capire anche usando dei caschetti neurali eccetera qual è il carico di lavoro in modo poi da renderci conto come valutare la rischiosità dell'adozione o meno dal punto di vista incidentologico dell'adozione o meno di questi sistemi è noto a tutti che l'anno scorso il numero di incidenti è salito purtroppo di nuovo di molto e la causa principale di questo è l'utilizzo del telefono cellulare quindi da una parte non puoi proibire al tuo guidatore di usare un telefono cellulare dopo che magari ha anche pagato un sistema col bluetooth per utilizzare senza dover pagare delle multe il cellulare dall'altra ti rendi conto che se uno telefona continuamente in macchina è distratto perché pensa alla telefonata e va a sbattere di più quindi ci sono anche tutti questi aspetti non facilissimi da affrontare da portare avanti quindi nel contesto dell'automobile noi come Unipol abbiamo iniziato a parlare con i carmaker che sono i primi grossi player e forse di tutta questa catena qua che vedete con la quale dobbiamo comunque dialogare perché se vogliamo andare avanti bene dobbiamo essere in partnership con molti di questi i carmaker sono quelli che sono prioritari per noi e quindi abbiamo iniziato a lavorare con loro e a capire iniziare ad affrontare questi aspetti dal punto di vista legale dal punto di vista anche della normativa oggi si parla tanto di guida automatica ma a livello europeo non puoi togliere le mani dal volante quando guidi quindi noi ci ritroviamo a parlare con la Bosch che potrebbe mettere sulle macchine dei sistemi che parcheggiano tranquillamente in automatico concedendoti di togliere le mani e di togliere i piedi dalla pedaliera ma che non può metterli in produzione in Europa perché la legge dice che tu non puoi togliere le mani dal volante così come stiamo cercando di capire anche con loro proprio se questi dispositivi di ausilio alla guida senza arrivare alla guida automatica siano effettivamente dei dispositivi veramente sicuri o addirittura invece rischiosi e questa è un po' una provocazione perché se vediamo invece i numeri le statistiche eccetera sembrerebbe che con la guida automatica gli incidenti spariscono questo è il trend di crescita di questo concetto della connected car qui vediamo che nel giro di pochi anni tutte queste macchine saranno connesse e quindi per noi è veramente molto importante capire che cosa implicherà la connettività piuttosto che il sistema di ausilio alla guida piuttosto che la guida automatica nel nostro concetto e lì avete anche dei nomi avete sentito parlare prima di Tesla ma anche Mercedes ma anche BMW stanno lavorando a questi sistemi intelligenti così come giganti come la Google piuttosto che la Apple stanno la Google l'ha già fatta la famosa Google Car che va a guida completamente automatica ha fatto 14 incidenti sino ad adesso 13 dei quali a causa di altre macchine che li sono guidate da driver normali che li sono andati contro e la la quattordicesima ha fatto per sua colpa la l'incidente anche perché tutta questa intelligenza artificiale che tu metti dentro una macchina è l'intelligenza che tiene in considerazione a perfezione quello che è il codice della strada quelle che sono le regole della strada noi quando guidiamo sempre le regole non le seguiamo al semaforo arancione spesso non ci fermiamo la Google Car si fermerebbe e quindi darebbe adito a tamponamenti o un aumento di incidenti piuttosto che una diminuzione di incidenti quindi l'ibridizzazione Unipol la vede veramente come un problema dal punto di vista dell'incidentalità per arrivare poi visto che siamo a Bologna e visto che siamo anche vicini a Reggio Emilia dove c'è la Metasystem un grosso collosso telefonico un equivalente della Vodafone cinese che si chiama One Way ha fatto recentemente proprio un accordo con Metasystem per avvicinarsi molto a questo mondo dei sistemi della guida automatica piuttosto che della guida assistita quindi il trend c'è noi non possiamo reagire contro quel trend ci dobbiamo preparare ma non è finito qui ne uso ancora una che è una provocazione siamo preparatissimi quindi adesso forse la inviterei a arrivare alle conclusioni la conclusione è che uso ancora solo una chart e poi ho finito questa è veramente forse la provocazione più grande che possiamo lanciare o che ci possiamo aspettare nei prossimi anni questa chart ci dice che probabilmente anche i costruttori automobilistici andranno a cambiare o dovranno cambiare perché sembra che proprio nell'ottica dell'arrivo della connected car ci saranno dei costruttori e questo modello si chiama Foxconnization perché Foxconn è la società che fa tutti i telefoni cellulari della Apple che poi vengono brandizzati di volta in volta quindi questo concetto della Foxconnization ci dice che ci sarà qualcuno uno o due aziende nel mondo che faranno delle macchinine tutte uguali tutte quasi vuote magari molto elettriche alcune anche un po' ibride senza brand che poi saranno caratterizzate praticamente solo per il sistema di guida automatica piuttosto che del sistema telematico che gli si metterà sopra quasi ad anticiparci che mentre quando ho preso patente io per esempio non vedevo l'ora di avere una macchina e magari se fosse stata anche un po' più bella mio papà me l'avesse potuta comprare sarei stata anche molto contenta mentre invece adesso i valori sono diversi l'importante è avere un telefonino e poi forse la macchina posso anche farne a meno ne prendo un in prestito o l'affitto quando ne ho bisogno quindi queste sono delle rivoluzioni oggi non ci penseresti neanche che magari a breve nessuno si preoccuperà neanche più del brand della propria macchina ma va benissimo che ci sia qualcosa che lo porti da un punto A a un punto B quindi la conclusione qual è? La conclusione è come mi ha detto il capo del personale in Unipol quando mi ha assunto probabilmente sta arrivando un meteore molto grosso sulla nostra testa che ci obbligherà a cambiare prima ci prepariamo al cambiamento o comunque siamo pronti ad aspettarci il cambiamento e creiamo competenze e creiamo cultura all'interno dell'azienda per affrontare questo cambiamento e forse meno penalizzeremo l'azienda per cui lavoriamo grazie tecnologie e cambiamenti nei modelli di business abitudini e chiaramente problemi di adattamento è evidente che una volta che saremo arrivati a avere le macchine che si guidano dal sole totalmente sicure non ci saranno più umani che le guidano avremo meno incidenti talmente pochi incidenti che le assicurazioni dovranno trovare un altro mestiere e quindi lo stanno cercando d'altra parte abbiamo visto che siamo partiti dagli investimenti in innovazione e siamo arrivati a commentare gli investimenti tra le macchine quindi le parole cambiano di significato ed è importante che sia così il cambiamento è evidentemente di comportamenti sociali oltre che tecnologici la tecnologia non è altro da noi abbiamo visto questi robot non sono una cosa che vive per i fatti suoi che evolve da sola sono l'espressione dell'umano della tecnologia che è fatta dagli umani la tecnologia è umana ma nonostante questo noi ci domandiamo che cosa diventiamo di fronte alla tecnologia che noi stessi abbiamo costruito non c'è dubbio che la sociologia corre a studiare tutto questo Roberto Poli professore di sociologia e ricerca sociale all'università di Trento può commentare come ritiene tutto quello che abbiamo detto fino adesso grazie nel parlare di futuro l'attitudine forse più facile è quella di essere o di diventare profetti di sventura tutti noi vediamo attorno molte trasformazioni possibili molto importanti molto significative molto problematiche io credo che sia importante partire da un presupposto il futuro non è ancora stato scritto quello che sarà domani dipenderà anche dalle cose che faremo dalle scelte che prenderemo i valori dalle attitudini dall'impostazione che daremo le cose certe generalizzazioni forse un po' affrettate tant'è vero che si susseguono l'una dopo l'altra in maniera molto contraddittoria danno più l'idea di figure anche molto autorevoli che forse non sanno come si parla di futuro e ne usano solamente alcuni aspetti e arrivano forse troppo velocemente a delle conclusioni io vorrei dare due o tre indicazioni di base una semplicissima che però forse è importante tenere presente il mercato del lavoro è cambiato in continuazione negli ultimi due secoli dai tempi dei primi telai a vapore in poi è stata una continua successione di cambiamenti ce ne sono altri che stanno arrivando va bene saranno forse più importanti più significativi più rilevanti di quelli che abbiamo visto negli ultimi decenni molto probabile molto possibile però siamo all'interno di una situazione che è continuata a cambiare per due secoli per due secoli abbiamo trovato a volte meglio a volte in maniera un pochino più complicata delle vie d'uscita questo è utile soprattutto per abbassare quell'elemento di ansia che spesso accompagna la discussione sui lavori di domani sì sicuramente ci sono delle sfide anche molto importanti sicuramente ci saranno dei passaggi traumatici per carità non voglio minimamente minimizzare il discorso però siamo anche all'interno di una situazione in cui appunto i cambiamenti si sono succeduti per tanto tempo secondo elemento ruolo del sistema educativo della scuola uno dei grandi compiti che abbiamo davanti in generale come possiamo aiutare i nostri ragazzi a prepararsi per lavori che ancora non esistono questa è una sfida che hanno tutti gli insegnanti o gran parte degli insegnanti hanno presenti qualunque scelta contenutistica che andiamo a fare diventa immediatamente obsoleta proprio perché non sappiamo ancora quali saranno i lavori fra 15 o 20 anni se non di meno dobbiamo fare qualcosa la domanda è cosa possiamo fare quali tipi di competenze dare ai nostri ragazzi in modo che riescano ad affrontare positivamente la situazione in cui si troveranno quale che sia e non possiamo dire diventate informatici o studiate matematica o fate questo o fate quella perché qualunque soluzione diventa limitata e parziale può valere per qualcuno o non per altro se non di meno qualcosa lo possiamo fare possiamo aiutare i nostri ragazzi a stare in piedi ad avere coraggio in se stessi a credere nelle proprie idee a leggere l'ambiente in cui sono inseriti a saperlo decifrare a saper capire quali sono le richieste le esigenze i servizi che magari qualcun altro non sta offrendo e che loro magari intravedono e potrebbero offrire da questo punto di vista forse nelle nostre scuole potrebbe prendetela come una provocazione come esplicitamente è magari valer la pena fare qualche ora di sport in più e stare qualche ora di meno in classe lo sport forma il carattere aiuta aiuta a prendere decisioni aiuta a muoversi lo stare troppo fermi passivamente in classe ad assorbire contenuti che sono già vecchi quando vengono presentati forse per carità non sto dicendo che non bisogna studiare non sto dicendo che non bisogna sapere chi sia stato Manzoni e tante altre cose meravigliose però la domanda che io mi pongo è ma perché le scuole devono essere sempre e solo sistematicamente rivolte al passato certo dobbiamo sapere di chi siamo figli qual è la storia che abbiamo alle nostre spalle ma nelle scuole anche il luogo dovrebbero anche essere la palestra in cui i ragazzi si formano per il domani e in parte questo dipende dall'acquisita delle competenze in parte dipende dal carattere e in parte anche dipendere dall'affrontare esplicitamente le sfide che hanno davanti a loro faccio solo un esempio elementarissimo nella nostra scuola da un po' di tempo vive una specie di furore certificativo bisogna fare test in continuazione su tutto una scuola vale se supera i test attenzione i test sono strumento dell'epoca industriale i test vanno bene per garantire le qualità minime che tutti devono possedere se dopo dieci anni di scuola un ragazzo non sa leggere e scrivere vuol dire che qualcosa è andato male benissimo siamo tutti d'accordo su questo ma poi le competenze che serviranno domani non possono essere competenze uguali per tutti dobbiamo avere il coraggio di dire le scuole e i ragazzi e la formazione devono essere differenziate che le scuole competano fra di loro che facciano cose diverse qualcuno riuscirà meglio in alcune attività qualcuno riuscirà meglio in altre attività ma questo è un modo per preparare i ragazzi avere il coraggio di difendere la diversità non pretendere che tutti facciano tutti la stessa cosa nello stesso momento nella stessa nella stessa situazione le scuole vivono ancora sull'idea di classe un gruppo di ragazzi della stessa età che lavorano tutti allo stesso ritmo alla stessa velocità quando in realtà sono tutti diversi questo vuol dire che qualcuno lo mettiamo in gabbia gli impediamo di crescere e a qualcun altro lo poniamo invece in situazioni di difficile nelle scuole si dovrebbero provare a valorizzare le differenze e il ruolo dell'istituzione dovrebbe essere di aiutare le scuole a diventare diverse le une delle altre in modo che poi si creino dei panorami più articolati venendo più vicino a noi uno dei problemi che noi abbiamo attenzione ritorno allo stesso schema di prima così come nelle scuole sta prevalendo un'ottica da età industriale per cui si devono come dire certificare i livelli minimi uguali per tutti questo lo si vede anche in molti altri settori ormai siamo andati al di là di quella fase di sviluppo della nostra società ma continuano a rimanere tutti i meccanismi di misura che utilizziamo per capire cosa sta succedendo attorno a noi sono ancora molto di quel tipo c'è moltissima innovazione che sta succedendo giorno per giorno attorno a noi che non viene individuata perché? perché misuriamo le cose le guardiamo con strumenti che andavano bene 60 anni fa 70 anni fa li abbiamo magari leggermente riaggiustati ma neanche tanto c'è bisogno faccio un esempio banale che può aiutare forse anche a come dire a fare un pochino da contraltare a quello che i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto pensiamo gli sms sapete tutti cosa sono gli sms chi ha inventato gli sms la risposta banale è sono stati inventati dagli ingegneri della Nokia no non è vero meglio dire sì la parte ingegneristica l'hanno fatta gli ingegneri della Nokia che però loro la vedevano per certi scopi loro molto particolari che avevano in mente i reali inventori degli sms sono stati i teenager europei quando hanno incominciato a usare il telefonino gli sms nel modo che tutti noi sappiamo ed era un modo che non era stato previsto dagli ingegneri della Nokia quando hanno tecnicamente predisposto il marchigegno che poi fa andare gli sms cioè la tecnologia è sì frutto ovviamente chi vuole negarlo del lavoro degli ingegneri ma dipende molto anche dal come le persone la usano dipende molto da ciò che le persone fanno dal tipo di dal modo in cui la usano e nel modo in cui le persone usano la tecnologia vengono dati dei segnali si dice andiamo di più in una direzione invece che in un'altra direzione ora questa interazione fra la parte diciamo più squisitamente tecnica e la parte legata all'uso delle persone è un qualcosa che lascia ancora come dire rispetto a cui ci sono ancora moltissime domande aperte di cui abbiamo capito qualcosa ma ancora tanto altro riesce da capire un altro elemento su cui forse conviene riflettere parlando di lavoro quante sono le aziende veramente innovative dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro sono poche la quasi ma totalità delle aziende adotta ancora un principio gerarchico che per certe situazioni va benissimo ma in situazioni molto complesse in cui le cose cambiano da un giorno all'altro in cui abbiamo a che fare con realtà che sono molto molto incerte molto contraddittorie molto difficile forse il principio gerarchico e l'organizzazione gerarchica non è la strategia operativa più efficace che possiamo immaginare forse c'è spazio c'è necessità anche di sperimentare nuove modalità io sono un grande difensore della gerarchia è stata una delle grandi invenzioni dell'umanità però funziona bene in certe situazioni funziona bene in situazioni sufficientemente stabili funziona bene in situazioni che non sono troppo complesse funziona bene in situazioni in cui si può prendere del tempo prima di decidere perché caratteristica della gerarchia che decide il gradino superiore e questo richiede tempo e in situazioni invece assolutamente come dire in certe problematiche questo porta a un costo non banale sentivo parlare e se ne parla tantissimo in questi in questi anni dei cambiamenti ad esempio a livello di demografia stiamo tutti andando verso società più anziane e lo si dice come se fosse quasi un problema permettetemi due osservazioni su questo primo il ventesimo secolo è stato un secolo in cui l'aspettativa di vita nel 1900 era di circa un po' inferiore ai 40 anni alla fine del secolo siamo arrivati a un'aspettativa di vita superiore agli 80 anni è una grandiosa conquista sociale non c'è mai stato un secolo nella storia dell'umanità in cui l'aspettativa di vita è raddoppiata siamo attenti a non trasformare quella che è stata una grandiosa conquista per mille motivi in qualcosa che sta diventando proprio perché non è gestita in maniera consapevole e in maniera adeguata sta diventando quasi una minaccia quasi una una profezia di sventura non raddoppieremo probabilmente ulteriormente nel corso di questo secolo e forse anche un bene però abbiamo trasformato una società in cui non si arrivava ai 40 anni come aspettativa di vita globale è una società in cui si arriva tranquillamente nella maggior parte dei casi e in tante oltre allora trasformare questo che ribadisco la vedo come una grandiosa conquista umana in qualcosa di potenzialmente negativo ci andrei un attimo a cauto certo per gestire una situazione diversa bisogna cambiare alcuni dei presupposti che davamo per scontati da dove nasse la storia dei 65 anni come passaggio fra l'età della maturità e l'età dell'essere anziana è stata un'invenzione una celta di Bismarck torniamo indietro di un bel po' ma perché Bismarck celse i 65 anni perché nella Prussia di quel momento i 65 anni erano l'aspettativa di vita che c'era e gli impiegati statali perché le pensioni valevano solo per gli impiegati statali a quel momento venivano dati a chi superava se sei tanto fortunato da vivere qualche mese in più va bene lo Stato ti dà un attimo di aiuto poi però nel ventesimo secolo è successo qualcosa è diventato da un momento molto breve della vita degli individui più fortunati è diventata una fase della vita vera e propria l'età del pensionamento adesso dura 20, 25, 30 anni ed è tutta un'altra cosa non è neanche immaginabile che si possa pensare di lavorare 30 o 35 anni e con quello avere come dire aver pagato i contributi sufficienti per poterne vivere altri 25 o 30 rispetto ai contributi basta fare due conti semplicemente non funziona ma allora dobbiamo ripensare ecco un altro modo di ripensare il lavoro non solo dal punto di vista della tecnologia ma forse dobbiamo ripensarlo nel modo in cui è organizzato magari ci sarà una fase della vita in cui si lavora di più per il benessere della propria famiglia e magari ci sarà una fase della vita in cui si lavora di più per il benessere o come dire come contributo che si dà alla comunità in cui si è inseriti può essere una delle variazioni possibili ma lo stesso discorso vale sulla scuola se noi viviamo e ognuno di noi spera di arrivare al massimo possibile e possibilmente in buona salute così a lungo è immaginabile che quello che impariamo nei primi 20 o 25 anni della vita serva per gli altri 50 o 60 in un mondo che cambia con la velocità che vediamo attorno a noi ovviamente non ha senso ma allora vuol dire che quella divisione canonica che finora abbiamo dato per scontato c'è una fase della vita in cui si studia c'è una fase della vita in cui si lavora c'è una fase della vita in cui si fanno i pensionati semplicemente non funziona più una delle cose che dovrà cambiare nei prossimi decenni sarà la riorganizzazione delle fasi della vita dove probabilmente queste tre fasi saranno molto più mescolate fra di loro e non divise così rigidamente come lo sono stati fino adesso in particolare pare che le pensioni siano messe in particolare metterei in difficoltà le pensioni stiamo mettendo in difficoltà la fase delle pensioni no sono intervenuto anche per ricordarle di arrivare in fondo l'ultima osservazione poi giustamente io credo che nel parlare nel pensare nell'immaginare il futuro il passaggio forse più importante di tutti sia il passare dall'idea di futuro detto al singolare detto al singolare vuol dire come se ci fosse una strada già tracciata e come se dovesse andare in una direzione che qualcuno la tecnologia i poteri quello che volete voi hanno in qualche modo già individuato e l'unica cosa che noi possiamo fare sia quella di percorrere quel percorso il passare dall'idea di futuro singolare all'idea di futuri no futuro non è qualcosa di già scritto è qualcosa che noi assieme a tanti altri ovviamente stiamo scrivendo nell'individuare una serie di futuri possibili possiamo prendere posizione possiamo dire alcuni ci piacciono altri meno possiamo darci da fare per fare in modo che i futuri verso cui andiamo siano più vicini possibili ai nostri desideri e ai nostri valori grazie grazie avete capito perché chiamano questi giornalisti a fare questo lavoro inutile di mediazione tra le persone essenzialmente sono gli unici che facendo avendo già una popolarità molto bassa possono aggiungere danno a questa popolarità interrompendo le persone che sanno le cose che dicono cose così interessanti ma noi le interrompiamo e questo è il nostro mestiere però tra le cose che ci ha detto Poli che sono molto importanti una è chiaramente che il futuro è quello è la conseguenza di quello che facciamo e noi facciamo le cose in base a quello che sappiamo e quindi in qualche misura il pensare di adattare l'organizzazione dell'educazione che è stata costruita per un mondo che sta rapidamente trasformandosi e l'organizzazione del lavoro dell'azienda della gerarchia aziendale è a sua volta un argomento di trasformazione di necessaria trasformazione di adattamento fondamentale del sistema nel quale viviamo ed è chiaro che da questo punto di vista stiamo facendo fatica a riconfigurare la cultura con la quale stiamo affrontando questi cambiamenti ma c'è una cosa che abbiamo ben chiaro a livello come dire di consapevolezza generale ed è che la gran parte della soluzione la domanda su come sarà il lavoro e quanto sarà il lavoro e chi farà il lavoro viene dalle imprese dal loro modo di vedere il futuro e un'impresa che ha una storia straordinaria che tutti conoscete che conoscete probabilmente meglio di me come la Data Logic è un'impresa che ha costruito il suo futuro creando lo spazio di innovazione all'interno del quale avrebbe trovato la sua evoluzione Valentina Volta ci racconta da un lato la sua visione rispetto a tutte queste questioni del lavoro dell'automazione del futuro dell'organizzazione e azienda ma dall'altra parte anche un po' partendo e tornando e arrivando all'esperienza della sua azienda prego ho messo anche l'orologio così io sono a posto e non devo intervenire no ma comunque tenga pure un occhio perché buonasera a tutti innanzitutto volevo ringraziare il centro San Domenico a cui sono molto affezionata per avermi invitato qui questa sera a quello che è il terzo se ho capito bene l'ultimo incontro dal tema che mi è stato appunto fornito quale futuro per il lavoro le conseguenze sociali della rivoluzione tecnologica la premessa d'obbligo che mi sento di dover fare è quella che si tratta di un argomento molto complesso dove è difficile trovare delle risposte in un contesto che come ricordava anche il professor Poli è in evoluzione continua e dove siamo chiamati in sostanza a prendere delle decisioni oggi quindi su quello che immaginiamo sarà un contesto lavorativo e sociale nel futuro si dice spesso che la storia si ripete e anche in questo caso ricollegandomi a professor Poli è vero non è questa una rivoluzione industriale o la prima delle rivoluzioni industriali noi abbiamo tre rivoluzioni industriali che si sono susseguite a partire diciamo da quella della macchina a vapore del fine 1700 susseguita da quella dell'elettricità e del petrolio verso fine 1800 fino ad arrivare a quella dell'astronautica e dell'informatica iniziata circa dopo la seconda guerra mondiale in effetti possiamo trovare però un denominatore comune a queste tre rivoluzioni industriali in tutti e tre i casi l'aumento della produttività generato appunto dal progresso tecnologico ha portato un aumento dell'occupazione quindi si è sempre visto come dire un trend di continuità tra quello che era l'aumento della produttività e quello che era invece l'aumento dei posti di lavoro mentre dagli anni 2000 cominciamo ad assistere ad una divaricazione quindi diciamo ad un disallineamento tra il PIL e la produttività in crescita da un lato quindi a partire dagli anni 2000 erediti e prospettive lavorative quindi delle persone in calo questo è un fenomeno che ha determinato negli ultimi decenni quello che uno scienziato Andrew McAfee del Massachusetts Institute of Technology di Boston chiama the great decoupling il grande disaccoppiamento quindi sebbene è vero che ci sono state tre rivoluzioni industriali quindi non siamo di fronte ad una novità da questo punto di vista i progressi tecnologici che questa rivoluzione industriale sta portando aumentano sì la produttività ma distruggono invece che creare nuovi posti di lavoro già nel 1930 quindi un po' meno di cent'anni fa il grande economista John Maynard Keynes aveva tenuto una conferenza a Madrid dal titolo le possibilità economiche per i nostri nipoti in cui aveva parlato appunto della disoccupazione tecnologica quindi della disoccupazione proprio dovuta alla scoperta di nuovi strumenti economizzatori di mano d'opera ecco il punto è che Keynes vedeva questa disoccupazione tecnologica come un fenomeno transitorio che già allora diciamo in una sua visione diciamo prospettica vedeva questo fenomeno poi riallinearsi quindi che la tecnologia col passare del tempo avrebbe comunque creato nuove opportunità di lavoro oggi possiamo sicuramente possiamo dire di trovarci di fronte a uno sviluppo tecnologico ineluttabile ma non possiamo affermare a cent'anni dopo la conferenza di John Maynard Keynes di aver trovato risposte adeguate a questo fenomeno del grande disaccoppiamento che stiamo vivendo ci troviamo insomma di fronte a un fenomeno nuovo questo credo sia anche il motivo per cui se ne parla tanto non solo qui ma anche in paesi appunto come gli Stati Uniti dove se pensiamo senza entrare perché non è il mio mestiere ma credo che anche questa situazione che stiamo vivendo questa divaricazione tra crescita della produttività e calo dei posti di lavoro abbia anche in qualche modo favorito quella che è stata poi la scelta dell'attuale Presidente degli Stati Uniti in America quindi possiamo dire di trovarci di fronte a una quarta rivoluzione industriale che richiamando il padre della cibernetica Norbert Wiener nel 1949 su New York Times definì questa quarta rivoluzione come una rivoluzione di assoluta crudeltà ecco io credo che il progresso tecnologico sia qualcosa di indeluttabile e che non possa essere fermato possiamo magari dire lo fermiamo anche a livello di paese ma sappiamo che oggi siamo operiamo in un mercato globale ecco e credo che ci siano giusto per dare qualche dato per aiutare un po' anche la comprensione se prendiamo la Silicon Valley quella zona della California dove c'è questa le imprese più importanti dal punto di vista tecnologico la Google Yahoo trovano sede consideriamo che nel 2014 se prendiamo la capitalizzazione quindi il valore di mercato delle aziende della Silicon Valley è di circa 1,1 trilioni di dollari e ci lavorano 137 mila lavoratori quando guardando sempre all'America nel 1990 le aziende più importanti nel settore automobilistico quindi Ford General Motors Chrysler impiegavano 1 milione 200 mila persone contro le 137 mila della Silicon Valley e le aziende il valore delle aziende era di 36 miliardi di dollari contro 1,1 trilioni di dollari delle aziende nella Silicon Valley ma prendiamo un esempio più vicino a noi guardiamo la Google la Google impiega 72 mila lavoratori e vale 600 miliardi di dollari la Google impiega più o meno tanti dipendenti quanto Telecom Italia che ne impiega circa 80 mila la Google vale 600 miliardi di dollari Telecom Italia vale 16 miliardi di euro quindi ci rendiamo conto di quanto aziende di valore estremamente rilevante hanno oggi un numero infinitamente minore di lavoratori rispetto al passato per tanti anni diciamo il senso comune è stato quello che la tecnologia distruggeva posti di lavoro questo è stato un po' il fenomeno delle tre rivoluzioni industriali passate ma ne creava di nuovi e di migliori e quindi questo compensava un po' l'effetto della manteneva questo effetto di non disallineamento ora cosa succede che la tecnologia crea sì molti nuovi posti di lavoro ma purtroppo meno del passato e quindi non riesce a compensare i posti di lavoro che il progresso tecnologico invece distrugge a mio modo di vedere lo sforzo dei governi delle istituzioni dovrebbe essere tutto concentrato non tanto come ho detto a trovare forme di limitazione o di rallentamento di quello che ormai è un fenomeno inarrestabile quanto a trovare forme di come accompagnarlo aumentando le opportunità lavorative ed evitando quegli impatti sociali negativi che quella che cosiddetta job less society una società senza lavoro potrebbe portare io stasera chiaramente non ho la pretesa di dare delle risposte concrete ma vorrei comunque esprimere quelli che sono dal mio punto di vista le cose le attività su cui ci si dovrebbe concentrare per cercare di trovare delle risposte a questo fenomeno prima di farlo vorrei dare giusto due cenni brevi a quelle che sono le tecnologie emergenti che oggi sempre di più sono responsabili della diminuzione e lo saranno di alcuni posti di lavoro la prima tecnologia è sicuramente quella dei robot credo che stasera ne abbiamo avuta un'evidenza in tal senso oggi si stima che ci siano già due milioni di robot in circolazione primo paese che li utilizza il Giappone seguito dall'America e poi dalla Cina il mercato della robotica vale oggi 15 miliardi di dollari ed è stimato arrivare a 70 miliardi nel 2025 ecco citava prima Foxconn Foxconn oggi impiega 1,2 milioni di dipendenti ma il loro amministratore delegato Foxconn è un nostro cliente ha già dichiarato che l'obiettivo è quello di arrivare nei prossimi anni a contare un milione di robot operai quindi anche applicando la legge di Moore fondatore dell'Intel in cui si assume che le prestazioni dei processori raddoppino ogni circa 18 mesi il costo di un robot diventerà competitivo quindi già oggi nei paesi a basso costo di lavoro diventa conveniente sostituire già la mano d'opera con il robot giusto giusto per fare un esempio JD che è la seconda catena di e-commerce dopo Alibaba più importante in Cina una catena cinese quotata al Nasdaq di New York che io ho visitato loro ci hanno chiesto hanno un laboratorio dove hanno dei robot che stanno sviluppando e che andranno a sostituire i loro operai per le attività come più banali e più automatizzate come quella della raccolta pallettizzazione quindi ho tanti pacchi prima di spedirli li devo mettere su un pallet e stanno sviluppando un robot oppure come quella anche più banale di raccogliere hanno dei cosiddetti AGV Automatic Guided Vehicle dei robot che girano all'interno di questi magazzini selezionano il prodotto che noi da casa in quel caso il cinese ha ordinato sul suo computer e non hanno più quindi bisogno degli operatori delle persone che scelgono a scaffale il prodotto ordinato e lo spediscono quindi oggi abbiamo visto qua in Italia che si stanno un po' avviando i primi step in realtà negli altri paesi il robot è una realtà è una realtà che sta prendendo piede come DataLogic chiaramente per noi è anche un'opportunità noi avremo una delegazione di 20 ingegneri che andrà la prossima settimana a visitare JD per fornire questi robot di visione quindi non è più solo sono un robot e faccio una cosa meccanica ma sono anche in grado di vedere quindi lo stato è già molto avanzato e quindi è giusto e capisco la preoccupazione sul fenomeno della robotica poi ci sono tante altre tecnologie la stampa 3D quindi posso stampare e mandare le mie specifiche da computer e come stampo un pezzo di carta domani posso stampare un oggetto quindi anche questo ci si rende conto di che impatto può avere sulle fabbriche sui lavoratori che operano lungo le linee l'intelligenza artificiale insomma molte tecnologie emergenti e non poi così emergenti che sono diciamo portano questo questo disallineamento in conclusione possiamo dire che non c'è mai stato un tempo migliore di questo per un lavoratore con alte competenze e la giusta educazione perché queste persone possono usare la tecnologia per creare e catturare lavoro allo stesso tempo non c'è mai stato un tempo peggiore per un lavoratore con competenze e abilità cosiddette ordinarie perché in questo caso computer e robot e altre tecnologie digitali stanno crescendo e ad un tasso straordinario e presto prenderanno il posto di questi lavoratori quindi la sfida per noi e per le nostre istituzioni è quella di rendere di nuovo questa crescita inclusiva quindi di evitare questo effetto di grande disallineamento e di assicurare che il progresso tecnologico abbia delle conseguenze positive per tutti e non solo per pochi quindi siamo un po' ad un grande punto di svolta è richiesto un ripensamento del contratto sociale e la risposta a mio avviso non è unica ma sono molteplici la prima mi ricollego all'intervento del professor Poli è la riforma dell'istruzione io penso che scuole università è importante che non formino studenti per dei lavori che non esisteranno più in futuro è necessario intensificare la formazione nelle materie cosiddette STEM scienze tecnologie ingegneria e matematica ma soprattutto la formazione non deve essere vista solo come un sistema chiuso e temporalmente circoscritto ai primi 30 anni di vita bensì essere un sistema aperto un sistema che permette una formazione continua e ancora di più una riqualificazione perché oggi ci sono persone che magari a 40 50 anni rimangono senza lavoro e non esistono almeno parlo dell'Italia in questo caso programmi di riqualificazione anche l'università stessa è un sistema chiuso nel senso uno va al liceo va alle elementari le medie il liceo l'università poi entra nel mondo del lavoro in realtà la formazione sempre di più deve diventare qualcosa di aperto con programmi di formazione di riqualificazione continue quindi per me questa è la prima risposta una seconda risposta è quella di pensare anche a forme di incentivo per il volontariato in Inghilterra per esempio i volontari ottengono rimborso per le proprie spese e acquisiscono crediti per la partecipazione a programmi di formazioni lavoro per il loro impegno a supporto di cause socialmente utili che possono includere la formazione corsi di lingua inglese campagne di protezione per l'ambiente eccetera un'altra risposta accanto alla riforma dell'istruzione e appunto all'incentivazione di forme di volontariato è quella di un reddito di base garantito i critici di questa soluzione vedono due aspetti negativi che io francamente mi sento anche di condividere per certi aspetti il primo è quello legato al fatto che il lavoro nobilita l'uomo molte persone senza un lavoro perderebbero la propria autostima è vero che molti dichiarano di non essere soddisfatti del proprio lavoro ma l'occupazione è vitale per molti il secondo aspetto è quello che un reddito garantito disincentiverebbe la ricerca di un lavoro con il rischio soprattutto per il nostro sistema paese di un'involuzione della società invece che di un suo progresso quindi dal mio punto di vista io concordo che una soluzione come quella del reddito garantito non può non possa in questo contesto essere scartata a priori ma che debba essere strutturata e pensata in un modo tale da garantire un bilanciamento tra il pagamento di un reddito garantito e forme di incentivazione a trovare comunque una nuova occupazione ultimo risposta appunto per ridurre quello che ho richiamato essere l'effetto del disaccoppiamento è andare nella direzione di una società felice quindi diciamo un economista di un professore di Harvard ha definito appunto questa economia felice un'economia in cui grazie ai robot e alla tecnologia potrebbero essere eliminati lavori tradizionali e rendere diciamo possibile una nuova forma di economia artigianale fondata sulla libertà di espressione e sulla creatività dove le persone potrebbero perseguire i propri interessi artistici e culturali pensiamo in questo caso anche magari ai genitori che avrebbero più tempo per far crescere anche a livello culturale i propri figli quindi in conclusione e concludo perché sono già quasi al limite del mio tempo siamo di fronte a una rivoluzione industriale che come quelle del passato non è arrestabile i cui effetti non sono ancora del tutto prevedibili le istituzioni ne devono prendere coscienza adottando a mio avviso non soltanto un approccio protezionistico che rischierebbe di portare il nostro paese a restare indietro rispetto ad altri e a perdere la sua competitività ma un approccio che io vorrei definire proattivo previsionistico ovvero identificando le opportunità di progresso tecnologico e le necessità in termini di competenza che esso comporta e adattando su questa base il proprio sistema di istruzione introducendo appunto programmi di formazione continua che possono permettere anche alle persone che perdono il lavoro di riqualificarsi per concludere quello che voglio ricordare è che la tecnologia è creata dall'uomo gli stessi robot che ci mostrava il professor sono creati dall'uomo e sono creati per l'uomo e quindi l'uomo stesso ha la libertà di stabilirne i limiti e di delimitarne i confini di utilizzo io credo nel progresso tecnologico e nei suoi impatti positivi sulla società ma non credo che la disumanizzazione del lavoro possa essere la crescita di lungo termine se i robot è vero che possono portare livelli di efficienza di produttività e qualità anche mai sperimentati non saranno mai in grado di sostituire quello che considero il fondamento il fondamento dell'umanità e della sua evoluzione ovvero l'interazione tra uomini fondata sulle emozioni fondata sull'amore e fondata sulla socialità come interscambio di idee e di aspirazioni vi ringrazio grazie a Valentina Volta io aspettavo che passasse alla fase costruttiva perché ha cominciato dura ha proseguito peggio stavamo perdendo un po' le speranze poi ne siamo usciti con delle proposte che sono francamente fondamentali anche per il fatto che alla fine si tratta di riconfigurare il sistema culturale insomma educativo e la nostra capacità di generare nuove idee naturalmente tutte le analisi ci dicono che i lavori ripetitivi sono a rischio come questo non ripeta questa cosa se no rischia e questo è il senso della cosa che stavamo dicendo tutti i lavori ripetitivi sono a rischio alcuni lavori saranno sostituiti dalle macchine quello che sembra essere strategico è lo diceva anche Poli adattarsi all'innovazione con nessuno però ha usato la parola creatività fino adesso che invece è nelle attività di Giovanni Emanuele Corazza che è professore ordinario all'università di Bologna e fondatore del Manzoni Institute for Creativity Marconi scusate era io vengo da Milano è uscito male comunque Marconi poi c'è la fondazione che mi ha guardato subito male peraltro la questione della creatività e dell'ingegneria rimane problematica riuscire a mettere insieme questi due aspetti è spesso difficile io vi racconto in 13 secondi quello che mi ha detto Elio delle storie tese in proposito lui è un ingegnere come sapete si è laureato al Politecnico di Milano a 42 anni siccome non voleva lasciare a metà la sua cosa alla fine a 42 anni si è laureato essendo già un famoso cantante artista eccetera e allora io sono andato a intervistarlo ingegnere Elio delle storie tese e tutta l'intervista è stata fondamentalmente basata sull'idea che lui diceva che la categoria più creativa che esista è quella degli ingegneri perché fondamentalmente la creatività non è soltanto immaginare ma è arrivare in fondo a creare qualche cosa quindi non aveva tutti i torti il creatore tutto sommato non ha immaginato affatto la nostra situazione nella quale ci troviamo non è detto che siamo tutti grati di questo ma comunque sta di fatto che alla fine l'ha fatta questa cosa quindi lui diceva l'ingegnere è una categoria creativa perché deve fare le cose alla fine dell'intervista gli ho chiesto ma come mai non lo sa nessuno che gli ingegneri sono i più creativi e lui dice perché gli ingegneri non lo dicono in giro e io dico ma perché non lo dicono in giro è perché sono degli ingegneri Corazza bene grazie buonasera a tutti credo che il mio intervento sarà tanto più apprezzato quanto sarà breve essendo ormai molto tardi quindi cercherò di dire poche cose e in qualche modo cercare di fare in modo che siano ricordabili quindi abbiamo sentito già approfitterò di tutto quello che è stato detto fino adesso con cui mi trovo d'accordo abbiamo già sentito dei trend tecnologici quindi connettività intelligenza artificiale nuove fonti di energia che in parte risolvono i nostri problemi come società e in parte ne creano di altri oltre a rendere l'evoluzione stessa della società caratterizzata da un'incertezza che potrebbe essere vista come un'opportunità ma più spesso viene vista come una generazione di ansia e quindi da questa situazione nascono nuove necessità una nuova etica una nuova etica nell'era della globalizzazione e come vedete e come è stato detto già in precedenza una nuova formazione per fare in modo che soprattutto preoccupato per le giovani generazioni siano pronte a un'evoluzione di questo genere come è riportato in tantissime fonti questo spostamento di forza lavoro dalla parte biologica umana a quella artificiale non è omogenea non è omogenea i posti di lavoro che si trasportano con più probabilità sono quelli dove le creatistiche umane principali dal punto di vista dell'adattabilità della nostra specie sono meno presenti ovvero la probabilità di robotizzazione chiamiamola così non è necessariamente antropomorfa questa forma di intelligenza artificiale ma chiamiamola così è praticamente inversamente proporzionale a quanto è il contenuto di creatività che si mette all'interno di un certo mestiere ora alcuni mestieri sono naturalmente più adatti diciamo così a prestazioni di tipo creativo ma io non sto assolutamente limitando solamente all'idea di lavori di tipo artistico lavori di tipo legato all'industria creativa ma in realtà qualsiasi mestiere può essere affrontato in una maniera non standard può essere affrontato per cercare le alternative riconoscendo il valore dello stato dell'arte ma con umiltà ammettendo anche che esistono sempre alternative possono esistere modi migliori di operare rispetto a quelle che sono quelle che consideriamo le best practices come Roberto Poli sicuramente conviene quindi diciamo così che la creatività ripartendo diciamo così dall'era industriale era una caratteristica di pochi pochi che non si conformavano alla standardizzazione dei mestieri pochi che stavano forse a immagine della società e colori quali erano in grado di dare un impatto sulla società con le loro idee erano considerati geni quindi creatività è il genio genio artistico genio tecnologico genio scientifico è chiaro che se la creatività è la risposta per il domani per mantenere il ruolo dell'uomo non può essere una caratteristica di pochi e quindi nell'era della informazione che è quella in cui viviamo oggi anche se naturalmente le caratteristiche sono miste laddove tutta la conoscenza è condivisa possiamo accedere a tutta la conoscenza del mondo in ogni istante in ogni momento grazie ai nostri dispositivi grazie ai nostri motori di ricerca tutti sappiamo tutto sto esagerando evidentemente non è vero ma questo è il trend è chiaro che su qualsiasi problema noi possiamo recuperare informazioni accorciare il gap riempire le nostre lacune in un tempo che è infinitesimo rispetto a quello che era 10, 20 o 30 anni fa la conseguenza è che sapere le cose la competenza il know-how è ancora evidentemente molto importante ma non come 10, 20, 30 anni fa e la nostra giornata non si può concludere rispondendo ai messaggi e alle sollecitazioni che ci arrivano dalla rete è evidente che la nostra dignità come esseri umani è legata alla conoscenza che ancora non è su internet e quindi generare il nuovo generare l'originale generare qualcosa che sorprende qualcosa di autentico che è legato alla mia persona diventa una questione di dignità per tutti e quindi la democratizzazione della creatività come necessità per tutti quindi una disciplina scolastica ecco la riforma di cui si parlava della scuola dove si introducono materie di questo tipo ma non è finita c'è un terzo blocco che è questo di cui abbiamo parlato ovvero l'introduzione della iperconnettività della iperintelligenza artificiale e a quel punto la capacità di generare idee è la speranza non di trovare un nuovo posto di lavoro ma di creare quel futuro come diceva Roberto Poli cioè prendere decisioni oggi che modificano il futuro domani ovvero tutti sto di nuovo andando all'estremo diventano imprenditori e non più impiegati dove la forza impiegatizia è tutta artificiale per tutti imprenditori seriali se questo scenario è vero la creatività non è più solamente nemmeno una questione di dignità ma è una questione di sopravvivenza pura quindi in definitiva quello che vi sto dicendo è che ci crediamo vogliamo insegnarla vogliamo estrarre i principi per cui abbiamo fondato questo istituto per la creatività e lavoriamo a livello di università dove ci sono corsi sì per ingegneri ma ci sono i corsi per i designer adesso l'università di Bologna ha deciso che i corsi di creatività sono offerti a tutti gli 80.000 studenti dell'intera università tutte le discipline non c'è un confine poi naturalmente si può lavorare sul post laurea il master in business administration e lavoriamo poco perché abbiamo poche risorse sulle scuole sulle scuole elementari però a maggio saremo a Roma una scuola elementare per dare questa imprinting a persone molto giovani di quarta elementare quindi al di là di tutto quello che vi posso dire anche nel proseguio il messaggio è e che spero che vada oltre queste quattro mura e in particolare alle giovanissime generazioni che avete in famiglia la creatività è una necessità per tutti non è un lusso è una disciplina con dei principi c'è una letteratura scientifica 120 anni di letteratura si può insegnare si può sviluppare esiste il talento come in ogni altra disciplina c'è chi è più dotato ma tutti migliorano ci sono delle caratteristiche di personalità dei tratti di personalità ci sono delle abilità cognitive ci sono delle capacità emotive tutte queste contribuiscono a una ricetta che porta a certe prestazioni che tuttavia possono essere migliorate grandissimamente con un controllo che chiamiamo metacognitivo nel momento in cui uno comprende come funziona il processo di generazione di idee e quindi come lo può controllare come lo può migliorare vi parlo di risultati di cui siamo certi perché oramai abbiamo un'esperienza pluriennale e funzionano con tutti sempre a prescindere dal bagaglio di partenza ora ho detto che devo essere breve questa è una rivoluzione molto piccola tutto sommato perché non stiamo dicendo di distruggere il sistema formativo attuale al 90-95% deve rimanere esattamente così l'intelligenza critica la capacità di dare risposte brillanti veloci su cose giuste e cose sbagliate è fondamentale per continuare a vivere in questa società ma bisogna aggiungere un comportamento duale una piccola frazione un 5% in cui quando vogliamo quando desideriamo siamo in grado di sfidare la realtà trovare alternative generare il nuovo quindi è una piccola aggiunta rispetto al sistema attuale non è una grande rivoluzione adesso avrei anche i principi da spiegarvi ma ne prendo solo uno essenzialmente quando è nata la teoria dell'intelligenza quindi siamo al cavallo del secolo 1900 Binet che è il padre della teoria dell'intelligenza ha definito l'intelligenza come la capacità di inibire la risposta istintiva la creatività è il passo successivo ovvero la capacità di inibire la risposta intelligente nel senso che la risposta intelligente è la risposta brillante e rapida a un problema che ha una soluzione ma voi capite come ha detto anche Roberto Poli che la nostra prospettiva non è di un mondo che ha una soluzione la nostra è una prospettiva in cui dobbiamo essere in grado di visitare tutte le possibili alternative non c'è una risposta corretta a priori c'è solo una verifica possibile a posteriori e maggiore è la nostra capacità di visitare esplorare lo spazio della nostra mente quello delle altre persone lo spazio della mente e della nostra specie complessivamente maggiore è la nostra capacità di prendere decisioni utili efficaci originali e efficaci al tempo stesso ora questa slide vi presenta il principio uno dei principi di base che noi utilizziamo appunto per questa esplorazione essenzialmente nessuno metterebbe in discussione il valore del sole saremmo matti se lo faremmo qualcuno può pensare che il sole non sia utile nessuno eppure se noi vogliamo esplorare le profondità dell'universo puntiamo il nostro telescopio lontano dal sole perché altrimenti questo saturerebbe completamente la sua capacità e quindi se noi vogliamo vedere le alternative aspettiamo la notte se noi vogliamo vedere le idee nuove dobbiamo inibire le idee dominanti e questa capacità di ribaltamento che tra l'altro si ritrova in molti passi biblici nonché del Vangelo questa capacità di rovesciare la realtà rispetto alle nostre aspettative apre a tutte le possibili alternative quindi c'è questa fase di inibizione che noi possiamo vedere anche monitorando l'attività cerebrale con elettroencefalogramma o risonanza magnetica funzionale quindi noi vediamo esattamente quali strutture cerebrali sono inibite nel momento in cui si generano idee e quali altre sono attive e la interconnessione tra queste zone cerebrali e in particolare le oscillazioni che avvengono all'interno di queste strutture quindi quello che vi sto dicendo oltre a essere rappresentato graficamente in modo magari piacevole ha poi una riscontranza diretta concreta con l'attività neurobiologica diciamo così del cervello e sulla base di questo noi generiamo idee la cui capacità di trovare valore è un esercizio che va anche esso insegnato cioè la capacità di trovare tutti i possibili punti di vista rispetto al valore di un'idea originale se un'idea è veramente originale non la si può giudicare in un istante perché altrimenti è un'idea che è esattamente all'interno della nostra conoscenza condivisa la vera originalità richiede il cambiamento di punti di vista una molteplicità di punti di vista per trovare tutti i possibili scenari di utilizzo di quell'idea che potrebbero essere anche molto lontani rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali che ci siamo posti possiamo anche trovare in questi processi esplorativi cose che non stavamo cercando quindi la cosiddetta serendipity può accadere ora questa capacità di non giudicare ma di stimare il valore è una novità totale all'interno di una classe dove il docente non è più la persona che sa perché l'esperto in generale uccide le idee nuove ma si mette esattamente allo stesso livello degli studenti e assieme in un processo dinamico si parte da un'idea e si espande cercando di trovare tutti i possibili significati ora come vi dicevo tutte queste cose possono essere codificate possono essere insegnate sviluppate questo non limita la creatività ma la abilita così come i pennelli di un pittore non limitano la sua capacità di dipingere ma la abilitano quindi sistematizzare i principi che stanno alla base del pensiero creativo è la chiave per liberarle quindi frase finale è di fronte a questa esplosione dell'intelligenza artificiale la risposta umana ritorna essenzialmente agli origini cioè quella che ci ha permesso di adattarci a ambienti uscendo anche dall'Africa la capacità di generare nuove idee quindi la risposta nostra è l'aumento esponenziale della creatività umana vi ringrazio bene questo è il momento se volete per fare un intervento è stato anche citato un passo perlomeno all'uso il Vangelo come luogo di creatività o di generazione della creatività anche se lo si è fatto in un modo tale per cui si tentava di dimostrare che occorre inibire le idee intelligenti e quindi queste due cose non ho ben compreso come vanno ad accordo o perlomeno non ho ben compreso come dire questa cosa in modo spiritoso per questo comunque è il momento per alzare la mano se volete e per intervenire non fatelo tutti perché sono le 11 prego mentre aspettiamo il microfono allora rispondo subito a questa provocazione evangelica ne prendo una ce ne sono mille di passaggi però pensate al ritornare come bambini ritornare come bambini per entrare nel regno dei cieli e cosa significa dal punto di vista dell'uscire dalla risposta prevalente dalle idee dominanti e ritornare a una modalità di vita in cui si prende tutto come una novità in cui si accoglie tutto come una sorpresa in cui si è in grado di dare valore a qualsiasi cosa ci succeda questo è esattamente il mindset questa è esattamente la modalità di pensiero che noi dobbiamo riacquisire nel momento in cui quel 5% della nostra vita dedichiamo al pensiero creativo questo è un esempio la domanda che volevo fare è questa e mi rivolgo in particolare agli interventi del professor Polli e dell'ingegner Corazza io ho avuto tre figli nelle scuole italiane scuole molto diverse fra loro ho notato comunque che i nostri professori anche quelli bravi e molto motivati seguono degli schemi che richiedono ai ragazzi di percorrere delle strade assolutamente conosciute la valutazione molto spesso penalizza chi si discosta da queste strade chi magari interpreta a modo suo un pensiero anche gli insegnanti più bravi vedono con sospetto addirittura l'introduzione del computer a scuola e si chiedono perché dobbiamo imparare programmare eccetera quando fino ad ora è andato tutto benissimo senza quindi da quello che dite voi già il computer è superato ma è andato tutto benissimo ma lasci stare che guardi io ho un diavolo per capello si vede anche però come farà la nostra scuola che si è mossa in questi decenni con una lentezza da bradipo ad adeguarsi a questa evoluzione che è sempre più veloce e già considererebbe superato un adeguamento a quello che era richiesto vent'anni fa e quindi domanda successiva i figli che escono dalle nostre scuole come potranno affrontare una sfida che mi sembra piuttosto intensa grazie possiamo raccogliere alcuni interventi prego buonasera Paolo Monticelli Associazione Occupiamoci noi ci preoccupiamo dei disoccupati quindi questo discorso ci mette un po' in ansia io credo che noi crediamo almeno che sia una legge di mercato che se non ci sono consumatori è inutile produrre e se non ci sono lavoratori indubbiamente il ciclo non funziona ma a prescindere da questo vorrei partire da un periodo che ho vissuto da studente era gli anni 60 quando i computer ancora non si vedevano o quasi citando Colosimo e in effetti in quel periodo si immaginavano le persone del 2000 con delle braccia molto piccole gambe molto piccole e una testa molto grande se voi guardate i film di fantascienza di allora e mi piace vederla così perché perché ringrazio qui la dottoressa Volta che è un imprenditore quindi mi fa piacere che venga dall'impresa questo discorso il robot a cosa deve servire se non aiutare l'uomo ma aiutarlo cosa vuol dire a fare meno fatica non a produrre milioni di dollari che poi non servono deve servire a aumentare la capacità dell'uomo di essere se stesso e allora noi i capelli li abbiamo persi quasi tutti perché ormai si vede ma la testa sotto questo aspetto ancora non funziona e ora sono molto triste a vedere che la tecnologia va avanti che la vita si allunga e io dovrò parlare con un robot questo credo non sia giusto ci sono altri io ragiono in maniera un pochino diversa sono venuto a sentire la prima relazione delle tre questa appunto l'ultima in cui parlava De Masi e De Masi ricordava che c'è stata una fatica storica nella Grecia antica e anche nell'antica Roma in cui c'erano segmenti della popolazione che non facevano niente nella vita perché gli schiavi facevano tutto per loro io non credo che avessero problemi psicologici o si sentissero scarse dignità semplicemente c'era qualcun altro che gli faceva i lavori e loro andavano a pensare nella Gorà o magari guardavano le partite di calcio dell'epoca che è il motivo per cui forse c'è metà della gente che avrebbe meritato di essere qua perché c'è Barcellona e Juve cioè quello che voglio dire è che forse dovremmo anche ripensare a fatto che i robot permettono di produrre le stesse cose con molto meno sforzo ma non è che la società è più povera c'è un problema di ridistribuzione e forse di ripensare al ruolo del lavoro che fino ad oggi è stato l'elemento che è abilitante per conquistare il proprio posto sociale e quindi capisco l'importanza la Repubblica è fondata sul lavoro dice l'articolo 1 della Costituzione e se invece il paradigma potesse cambiare perché ad esempio effettivamente non c'è più questa necessità per forza e il problema si sposta solo nella ridistribuzione e i parametri possono cambiare è un cambiamento enorme anche psicologico forse deve passare a una generazione però credo che la tendenza in tanti aspetti si vede in questo insomma in fondo poi i forestali della Calabria sono dei sovvenzionati statali cioè non è che semplicemente è un reddito di cittadinanza anche quello nel frattempo è finita la partita e sono 3 a 0 per la Juventus visto che c'è stato qualcuno che ha detto porca miseria non mi sono persa la partita allora gli abbiamo detto come è andato là in fondo io invece sono un padre di vari figli il cui il primo è a 16 anni e quindi comincio a fare delle domande giustamente su quale università quale facoltà praticamente scegliere per cui mi trovo di fronte al problema di eventualmente consigliargli una cosa con la minaccia futura possibile eventuale che fra dieci anni mio figlio si girerà dietro e dirà ma papà tu mi hai consigliato questa facoltà questa cosa che poi in realtà non mi sta permettendo di trovare un'occupazione diciamo concreta specifica soddisfacente eccetera eccetera anche perché come avete voi insegnato fra dieci anni il mondo è cambiato completamente quindi è molto difficile fare previsioni però essendo diciamo io appassionato oltre che operatore di politica del lavoro mi sono andato a vedere le statistiche del Bureau of Labor Statistics cioè degli Stati Uniti che è l'ufficio delle statistiche che si occupa di statistiche del lavoro che fa le proiezioni sul 2020-2025 su quali sono i cambiamenti principali del mercato del lavoro in termini anche di professioni e guardando ai grafici scopro delle cose un po' controintuitive rispetto a quello che si sta dicendo oggi nell'ambito del dibattito sulle tecnologie e cioè che i cambiamenti principali in termini percentuali sulle professioni riguardano alcune professioni che non hanno niente a che fare con le tecnologie e che sono principalmente infermieri home assistant cioè badanti e assistenti alle vendite allora ho capito perché probabilmente se oggi un'azienda ha bisogno di un data manager anzi di 10 data manager volevo dire fra 10 anni forse avrà bisogno di un solo data manager e se oggi un'azienda ha bisogno di 10 ingegneri di robotica fra 10 anni probabilmente avrà bisogno di un solo ingegnere di robotica perché le tecnologie ovviamente nel momento in cui aumentano la produttività hanno bisogno di sempre meno interventi umani e le macchine avranno bisogno di sempre meno interventi umani lo si vede sulla finanza su diverse altre tematiche e questo dibattito il dibattito nuovo sull'intelligenza artificiale è proprio su questo che distrugge i posti di lavoro e ne crea sempre di meno rispetto a ciò che avveniva ultimamente è uscito fuori un articolo di Acemoglu che è un esperto di queste cose in America che ha dimostrato effettivamente con delle tecniche statistiche che per ogni robot nell'economia statunitense si distruggono tre posti di lavoro umani ma quello insomma lo stimolo che vi davo era soprattutto su queste previsioni del Bureau of Level Statistics che danno quindi dei dati diciamo assolutamente controintuitivi che mi spingono forse a dire che forse l'unica prospettiva è andare in Giappone andare a vedere che cosa succede lì perché forse è lì che si capisce qual è il rapporto vero con la robotica e con il mercato del lavoro grazie io concluderei forse il numero degli interventi anche perché domani non ho nessun robot che mi sostituisce devo tornare a Milano a lavorare quindi vi prego di perdonarmi chiuderei qua e farei fare un giro ai nostri interlocutori magari nello stesso ordine che abbiamo visto prima compreso se vuole Paola Carrea cosa cosa ne tira fuori naturalmente tutti noi siamo coinvolti dal tema di consigliare ai figli o ai giovani quale università scegliere e non ci asteniamo dal farlo nonostante che sbaglieremo sicuramente poi c'è il tema di essere gioiosamente liberi dal lavoro oppure preoccupantemente liberi dal lavoro i due interventi centrali opposti simili e poi insomma come si può adattare il sistema educativo forse ne parlerà Poli io provo a rispondere come mamma anche se non sono provo a rispondere come mamma all'ultimo intervento che è stato fatto io ho una figlia che fa il primo anno di liceo e quando doveva scegliere il liceo eravamo un po' in dubbio tra il liceo scientifico piuttosto che il liceo classico e alla fine ha scelto lei di andare allo scientifico anche se io personalmente avrei preferito il classico perché credo che comunque una buona base di cultura serva sempre qualunque possa essere il futuro qualunque possa essere il mestiere predominante dopodiché da quando è piccola dice che lei vuole fare la dottoressa degli animali quindi vuole fare la veterinaria personalmente preferirei facesse magari anche l'ingegnere come sono io come mio marito però credo che sia giusto faccia quello che vuole lei perché io ho fatto ingegneria quando i miei avrebbero preferito facessi un'altra facoltà e nello stesso tempo però ho fatto una cosa che mi piaceva ho cercato di tirare fuori quel 5% di creatività ogni volta di cui ne ho avuto bisogno e quindi se fai una cosa che ti piace ti appassiona e ti dai da fare ti tiri sulle maniche ce la farai ce la farai sempre quindi io non sarei così preoccupata sento anche dei commenti forse un po' troppo eccessivi il futuro quale sarà bo non lo sappiamo forse lo sappiamo anche molto bene in questi 20-25 anni sta cambiando rapidamente tutto però lo abbiamo affrontato affronteremo anche i prossimi 20-25 speriamo anche di più 30-40 l'abbiamo fatto noi lo faranno i nostri figli cioè io non la vedo tutta sta minaccia bisogna solo essere pronti ecco un po' più elastici però vedo molti aspetti positivi più che aspetti negativi anche perché ragazzi abbiamo imparato a far smettere i telomeri di accorciarsi e quindi l'invecchiamento si ferma e quindi dureremo molto di più del doppio di 80 anni nel corso di questo secolo secondo Aubrey de Bré è già nato la persona che vivrà mille anni noi ci stiamo ancora allora bisognerà ammettere che lì la disoccupazione sarà un fatto superato pur che non diventino mille anni di disoccupazione ovviamente appunto sulla scuola ovviamente come dire non è questo il momento per imbastire in tre minuti un programma di riconfigurazione della scuola quello che secondo me va tenuto presente non è tanto il modo in cui la scuola ha funzionato finora quanto le possibilità e la necessità che c'è di provare a fare un passo in avanti io trovo la mia limitata esperienza che da parte del mondo degli insegnanti c'è una recettività importante davanti a nuove idee non davanti alla ripetizione di cose già sentite per magari dieci o quindici corsi di aggiornamento e che nel corso del tempo continuano a ribadire le stesse cose noi abbiamo un programma di introduzione di laboratori di futuro in classe che non assolutamente bene che ai ragazzi dà dei risultati assolutamente assolutamente importanti menziono visto che siamo alla fine solamente un aspetto uno degli scopi del laboratorio è di aiutare i ragazzi a vedersi adulti vedersi come dire a 30 anni per un ragazzo di 15 vedersi a 30 anni è una sfida non da poco vedersi a 30 anni vuole anche dire sviluppare un piano un obiettivo da raggiungere quello che noi cerchiamo di aiutarli a vedere è di avere sempre il piano B nel senso che sì tu hai il tuo obiettivo cerca di raggiungerlo è giusto fondamentale poi nella vita succede di tutto come sappiamo impara a avere anche il piano B senza viverlo come fallimento impara ad adattarti alle situazioni quando un ragazzo ha imparato questo ha imparato tutto quello che deve avere ed è solo un microscopico esempio poi ci sono tantissime altre cose ci sono molte possibilità ovviamente la scuola è una cosa che è nata ed è stata configurata su idee del settecento ancora e quindi c'è bisogno un attimo di rivedere alcuni passaggi ma attenzione ci sono tre grandi sistemi sociali che sono tutti in apnea il sistema politico quello giuridico e quello educativo tutti e tre fanno fatica a tenere il ritmo di economia e tecnologia dall'altra quindi è un problema strutturale che c'è alle spalle non è il problema della mancanza o dell'innabilità di questo di quello qua c'è un ragionamento l'unica osservazione è che tutti e tre questi sistemi sono basati su idee setecentesche di un mondo che si andava a cavallo a quei tempi voglio dire non c'era niente di quello che c'è attorno adesso eppure ci siamo affezionati perché siamo tutti figli di un certo crediamo tutti alle norme giuridiche crediamo tutti alla democrazia eccetera attenzione sono tutti basati su idee di due secoli fa hanno bisogno di aria nuova quale che sia io non ho le risposte non voglio neanche darle in tre minuti ovviamente però teniamo conto che certe difficoltà strutturali che le società contemporanee vivono sono per l'appunto difficoltà strutturali non sono congiunturali non sono legati a un particolare momento o all'inabilità di tizio di caio richiedono un ripensamento più ampio e qui si apre un'altra un'altra cosa grazie insomma comunque effettivamente il sistema educativo un milione di professori 8 milioni di studenti è una barca difficile da girare io ho visto un paio di governi provarci ancora una volta per l'ennesima volta ho l'impressione che sia veramente complicato probabilmente non basterà il sistema educativo a rinnovare se stesso è più probabile che condizioni educative si aggiungano alle condizioni di vita attuali in modo da generare quella capacità di vedersi nel futuro che diventa poi la consapevolezza con la quale facciamo le scelte e costruiamo il futuro stesso indubbiamente il tema però è da dilemma fondamentale come è un dilemma fondamentale l'idea che dobbiamo affrontare un'epoca nella quale essendoci meno lavoratori ci saranno meno consumatori e quindi meno economia per dare ancora meno lavoro questo tipo di approccio che porta qualcuno a dire c'è bisogno del reddito di cittadinanza non soddisfaceva Valentina Volta che è stata chiamata in causa proprio da questo punto di vista non ho tantissimo da aggiungere come ho detto è un problema molto complesso non credo che ci sia una sola risposta a quello che mi sento di dire che secondo me è necessario comunque pensarci e avere comunque un programma concreto perché al di là non per scomandare il Vangelo ciascun giorno basta la sua pena io credo che viviamo una realtà dove il progresso tecnologico è un fatto e non credo che si arresterà o almeno se si arresterà in Italia in Cina negli Stati Uniti in Giappone va avanti quindi credo che sia una responsabilità delle istituzioni e anche delle aziende dal loro punto di vista di comunque mettere in piedi un programma serio e strutturato per affrontare questa diversa quarta rivoluzione industriale in questo dal mio punto di vista grazie e poi c'è questo fatto che comunque eccellenze vanno avanti paesi eccellenti vanno avanti il nostro potrebbe essere uno di quelli che si avvantaggia della robotica lo sappiamo siamo il terzo secondo quarto produttore mondiale di robot abbiamo industriali quindi se si diffondono i robot noi facciamo più laboratori in Italia questo potrebbe essere un punto di vista non ecumenico ma localisticamente positivo come può essere però affrontato il tema di ridurre le polarizzazioni ridurre la distanza tra quelli che ce la fanno e quelli che non ce la fanno questo è un vero tema per i creativi quindi per concludere grazie per questo spunto innanzitutto vorrei dirvi questa è una epoca di grande crescita veloce esponenziale ma l'esponenziale nella crescita della nostra cultura cumulativa esiste da sempre se voi guardate nel medioevo medioevo l'era buia la crescita della matematica della fisica della chimica è esponenziale se voi guardate nel paleolitico la crescita del numero dei prodotti ritrovati dagli archeologi è esponenziale con il tempo quindi noi cresciamo esponenzialmente da sempre grazie alla nostra creatività questa è la nostra caratteristica principale e quindi dobbiamo fare questo passo ora si chiedeva il posto di lavoro come si trasformerà non sarà più un posto ha una visione statica di un posto che si abita ha una visione dinamica di un flusso in cui si entra questo è il passaggio che dobbiamo fare e per entrare in questo flusso dobbiamo sfruttare quell'intelligenza artificiale che stiamo creando al nostro servizio come la sfruttiamo con idee di impresa quindi bisogna insegnare a prendere rischi a implementare a generare idee che possono avere un valore per dei modelli di business che non dureranno più come oggi dei mesi dureranno delle settimane dureranno dei giorni ecco per questo saremo tutti imprenditori seriali non dobbiamo cercare il posto di lavoro dobbiamo crearlo grazie grazie a tutti grazie a tutti